1980, un 19 dell'Italia esplode nei cieli di Ustica, 81 persone perdono la vita. 2000, decifrata la mappa dei geni umani. 1991, invasa la Slovenia, inizia la guerra in Jugoslaria. Commenta il fatto del giorno Walter Barberis, storico. La corazzata Potionchi, un mito del cinema, un episodio della grande storia del Novecento europeo.